La civiltà si misura da come si trattano gli anziani nelle città e da come si trattano gli animali, che fanno parte delle nostre famiglie. Una nuova stanza per l'adegenza post-sterilizzazione dei gatti. Questo, il nuovo spazio allestito al canile comunale, è pronto adesso ad accogliere amici delle colonie feline che vengono sottoposti all'intervento chirurgico. Una struttura realizzata in sinergia tra amministrazione comunale ed ASL. L'acquisto delle gabbie è stato finanziato da Estra. Estra è una grande azienda del territorio che è salita ai vertici a livello nazionale. Siamo la quinta utility. In questi anni siamo cresciuti notevolmente, ma non ci dimentichiamo mai cosa siamo, da dove veniamo. Veniamo da questi territori e intendiamo, pur operando a livello nazionale, producendo tanti risultati che poi vengono destinati alle nostre comunità, intendiamo continuare a sostenere anche le ragioni di una comunità. La comunità vive anche della tutela dell'ambiente. In questo grande tema dell'ambiente ci sono sicuramente anche gli animali. Era complicato la cattura del gatto libero e quindi abbiamo dovuto studiare questo sistema per cercare di raggrupparli in un numero congruo in modo da permettere all'azienda sanitaria, all'unità veterinaria, di procedere per intervenire sulle sterilizzazioni. Una volta sterilizzati i gatti poi non vengono più lasciati liberi, ma vengono riportati in questa stanza di degenza e questo è molto importante perché possono essere ospitati qui per 24-48 ore, essere tenuti sotto controllo e rimessi in libertà soltanto dopo che sono guariti, che stanno bene dopo il decorso post-operatorio. Una degenza a gatti, vediamo invece dall'altro lato un rinnovamento del canile stesso. Sì, il canile questo è diciamo un contributo che empa tramite un lascito generoso che ci è stato fatto dalla professoressa Maria Rosa Gallorini, abbiamo potuto realizzare questa parte di rifugio completamente nuova. Abbiamo spostato la colonia felina in fondo e quindi contiamo a ottobre di poter fare un'altra inaugurazione. Al piano di sopra abbiamo visto tanti gattini come ogni estate torna a questo allarme. L'allarme gattini direi che l'emergenza gattini veramente in questo momento è più importante di quella dei cani. Ripeto, c'è la fortuna veramente di lavorare in sinergia con un assessore che ama gli animali e quindi devo dire che l'assessore Carlettini comprende perfettamente queste nostre ansie di poter fare e c'è un ufficio ambiente che la supporta in tutta quella che è la logistica e noi diciamo come empa completiamo quello che è un circuito che deve funzionare per aiutare gli animali.